Come sta andando in questo momento il mercato? C'è crisi, c'è il problema legato all'Imo, ci sono pochi soldi, come sta reagendo il mercato? Il mercato certo sta molto male, è un mercato molto complesso, è come una macchina che non ha più la benzina, la benzina è il credito, quando togli i soldi al mercato la macchina si ferma. Io sono e devo essere assolutamente positivo ed ottimista e quindi pensare che questa crisi deve per forza avere una via d'uscita, anche perché il mondo della casa vuol dire non solo il mercato immobiliare, vuol dire il mondo delle costruzioni, vuol dire un'industria che mediamente ha rappresentato il 10% del PIL italiano. Quindi voglio dire la casa per gli italiani e penso rimanga ancora adesso una delle cose più importanti e l'investimento certamente più importante della vita. I tempi sono certamente, mediamente ancora, penso che avremo un 2013 ancora abbastanza ovviamente difficoltoso, certo che speriamo che anche questo nuovo governo, ovviamente lavori su questa correzione dell'Imo, questo l'abbiamo capito tutti, non lo so, non faccio nomi perché è meglio non farli, credo che ormai tutti si stanno muovendo per dire che l'Imo va ovviamente in qualche maniera un po' modificata, è impossibile avere dei pesi sulla casa di questo genere, perché ovviamente vuol dire disincentivare o addirittura obbligare alla vendita, se per caso la situazione economica andasse a peggiorare per il soggetto. Quindi io dico, l'analisi di oggi è un'analisi un po' di un momento in cui sappiamo anche politicamente, guardiamo un po' più in là, io penso che tra la primavera e l'estate dobbiamo aspettarci un po' più di fiducia. In fondo i soldi non sono spariti, secondo me non sono spariti neanche gli acquirenti, certo che di fronte a questi chiari di luna dove la terza sezione è aumentata due o tre volte, diventa difficile trovare la voglia e l'entusiasmo per investire, questo parliamo specialmente nel mercato delle seconde case, dell'investimento a reddito, cioè di quella parte di risparmio che le famiglie italiane oltre alla prima casa destinavano anche e che adesso ovviamente rimangono un po' perplesse su quello che deve essere il fattore decisionale. Secondo me è un momento di riflessione, dobbiamo vedere che questo nuovo governo ritorni a dare fiducia un po' a tutta l'economia e quindi all'industria delle costruzioni e allora le imprese ripartiranno, ripartiranno le imprese, ripartirà il mercato, è un po' tutto. Ovviamente devono ripartire i mutui, devono ripartire le banche che devono ritornare ad avere fiducia nel finanziare ovviamente l'acquisto, specialmente per la fascia dei più giovani che sono quelli che hanno necessità di costituire una famiglia.